L'universo è asimmetrico e sono persuaso che la vita, così come noi la conosciamo, è il risultato diretto dell'asimmetria dell'universo, oppure una sua diretta conseguenza. Interessante! Ma che cos'è un'asimmetria? Te lo spiego subito. Vedi? Ok, questa è simmetria, mentre questa è l'asimmetria, la rottura delle simmetrie. Molte delle cose che vediamo tutti i giorni presentano simmetrie, e non parlo solo di costruzioni dell'uomo, ma anche di forme naturali, come il corpo umano, piante e animali. In natura possiamo vedere due tipi di simmetrie. La prima è chiamata bilaterale ed è presente in un corpo quando possiamo dividerlo in due parti uguali, mentre la seconda, chiamata radiale, si riconosce grazie al centro di simmetria, attorno al quale si sviluppa tutta la forma. La simmetria è principalmente un concetto geometrico, ma è anche un argomento molto importante su molti fronti. Nel mondo della fisica, oltre che le simmetrie, sono molto importanti anche le asimmetrie, che hanno contribuito nello studio di importanti fenomeni come l'antimateria. L'antimateria può essere definita come l'insieme delle particelle con la stessa massa delle particelle che costituiscono la materia, ma con segno di carica opposto. Se particelle e antiparticelle vengono messe in contatto, possono trasformarsi o in fotoni di alta energia o in altre coppie di particelle e antiparticelle che mantengono costante la somma delle loro energie. La simmetria migliore è costruita a partire da una serie studiata di irregolarità e asimmetrie. Non si può dire con certezza se sia più interessante o più bella l'asimmetria o l'asimmetria. Dato che se prese singolarmente sarebbero una redda e rigida, mentre l'altra poco caotica, credo che si possa raggiungere la perfezione solo grazie all'unione delle due. Grazie a tutti.